Anche l'unità operativa di oncologia medica del Policlinico di Bari avrà il casco refrigeratore per prevenire l'alopecia, cioè la perdita parziale o totale di capelli e peli dovuti al trattamento chemioterapeutico. L'iniziativa denominata un capello per amico ha mosso un'onda di generosità tra privati che ha permesso l'acquisto del dispositivo capace di garantire ogni giorno a due donne sottoposte a chemioterapia il trattamento preventivo. L'acquisto del dispositivo consentirà a diverse pazienti oncologiche del Policlinico di Bari di affrontare con maggior serenità il proprio percorso terapeutico, permettendo ai medici del reparto di oncologia medica di offrire un trattamento più dignitoso e sempre più orientato all'eccellenza e all'umanità delle cure contro il cancro. Sino a pochi anni fa non esistevano rimedi efficaci per prevenire l'alopecia in corso di chemioterapia e si poteva ricorrere unicamente all'uso di parrucche, capelli, fularo o bandane, solo per limitarne l'effetto visivo. Oggi invece c'è un'alternativa efficace grazie allo sviluppo di un casco refrigeratore del cuoio capelluto, lo Scalp Cooling System Orbis 2. La donazione del dispositivo Orbis 2 da parte dell'Associazione Pandora Onlus all'unità operativa di oncologia del Policlinico di Bari permetterà di trattare ogni anno circa 80 donne sottoposte a chemioterapia. Il casco refrigeratore serve principalmente a ridurre la temperatura corporea sul cuoio capelluto. Noi sappiamo benissimo che le chemioterapie sono di solito la maggiore causa dell'alopecia, cioè della perdita dei capelli, in particolare nelle giovani donne, ma diciamo in tutti i pazienti oncologici che ricevono determinati trattamenti chemioterapici. Bene, riducendo la temperatura corporea con il casco, noi che cosa facciamo? Andiamo a indurre una vasocostrizione dei capillari che irrorano i bulbo pilifero ed in questo modo il chemioterapico non arriva al bulbo pilifero e il bulbo pilifero viene salvaguardato. I capelli non cadono più. Gli studi clinici che sono stati fatti con questa apparecchiatura hanno dimostrato che la prevenzione dell'alopecia, cioè la perdita appunto dei capelli, con questo sistema di refrigerazione funziona in circa il 70% dei casi dei pazienti o delle pazienti trattate. E quindi inevitabilmente diciamo ci siamo un pochino adeguati a quelle che sono le indicazioni. Abbiamo potuto usufruire anche della generosità di alcune associazioni in particolare dell'associazione Pandora, un'associazione ONLUS per l'oncologia che ha voluto donare appunto il casco alla nostra unità operativa e quindi avremo la possibilità di trattare almeno 2-4 pazienti al giorno per un totale mensile di circa 80 pazienti che seguiranno appunto il trattamento con il casco refrigeratore. Grazie a tutti.